Sì, cominci, Miriam, fai vedere cominci dall'inizio, che il cane ti tocca, che il cane va dentro col naso, clicchi e prendi, clicco solo, una volta sola, una mitraglietta, una continuità di clicker, bravo, è che io, sai che è che io sono Apple, che noi non usiamo il clicker per modellare il cane, non usiamo il gioco per modellare il cane, Ma cosa fai? È tutto attraverso la relazione che hai col cane e ottieni le cose, capito? Sono il premio alimentare e il rinforzo di terra, va. Non lo metti in bocca? No, ce l'ho annunciato. L'ho abbassato? No, il clicker come un metodo. Si, però, tirano d'osso. Newton, Newton. Non è veramente un relazionale. Newton. Mi fai così, capito? Newton. Per cui per me è che sono abbassata. Cioè, quando provo, fa vedere. No, così lo metto in brocca.